Ben ritrovati, abbiamo un'altra sigla della quale parlare, si chiama TOS, Team Operatori Sanitari Scolastici. Che cosa significa? Significa che questo gruppo, questo team, è fatto per riaprire le scuole. Sono le misure che prevedono la riapertura finalmente delle scuole in presenza. Che cosa significa questo team? Abbiamo un medico in questa squadra ogni 1.500 alunni. Che cosa verifica? Verifica ovviamente che non ci sia problemi di coronavirus, nel caso ovviamente se ne occupa. Stiamo parlando di 533 operatori complessivamente in tutta la Puglia, a Bari 140. In tutta la Puglia ci sono oltre 530.000 studenti, a Bari ne abbiamo oltre 160.000. Ogni 14 giorni questi medici poi si occuperanno di fare i test antigenici. Cioè è una squadra che permette appunto la riapertura delle scuole. Sulla carta dovrebbe funzionare magnificamente. Ora la domanda che voi immagino vi stiate facendo e che mi sono fatta pure io, ma non potevamo farla a settembre questa TOS, questa Team Operatori Sanitari Scolastici? Invece di pensare a livello nazionale alle famose roulette, i famosi banchi con le rotelle? Oppure a chiudere e basta? Non si poteva immaginare un team del genere per evitare che tanti mesi, un anno oramai di isolamento dei ragazzi, degli studenti più grandi? Forse sì. Forse con il seno di poi voi direte va bene, ma chi se l'aspettava? Abbiamo avuto un'ondata travolgente, ok, abbiamo avuto anche le elezioni, abbiamo avuto un sacco di cose che forse hanno rallentato, però forse hanno rallentato troppo. Stiamo parlando oramai di quattro mesi di ritardo, da settembre fino ad oggi abbiamo perso quattro mesi. È una riflessione che va fatta, perché tutto quello che non va, va detto, soprattutto perché si faccia tesoro degli errori che si fanno. Siamo andati troppo a rilento, l'abbiamo detto nei mesi passati, siamo stati però anche troppo, diciamo, generosi. Adesso forse non lo dobbiamo essere più. I ritardi sono pesanti, sono pesanti soprattutto per le giovani generazioni che hanno perso un anno di scuola e sono pesanti per le famiglie e per ciascuno di noi. Quindi benvenga la TOS o il TOS, dato che si chiama, che è il team. Speriamo che funzioni e speriamo che non ci siano altri ritardi. Ci vediamo domani.